Ritorno anticipato alle urne, il sindaco Massimo Cialente è arrivato a minacciarle, esasperato dai continui conflitti interni alla sua maggioranza. Ma in pochi credono che faccia sul serio, tanto che il Partito Democratico oggi prova a gettare acqua sul fuoco e invita in particolare i socialisti italiani e la rifondazione comunista al senso di responsabilità, perché le elezioni anticipate, in uno dei momenti più critici della ricostruzione post-sismica, avrebbero davvero del clamoroso. Ci sono stati dei movimenti, dei contatti, dei colloqui tra i vari partiti, delle riflessioni e è chiaro che rimangono ancora aperti dei nodi. Parte mia, quindi come capogruppo del Partito Democratico, la volontà e l'intenzione è quella appunto di fare chiarezza in merito a quanto successo e cercare di vedere, di verificare se ci sono le condizioni per trovare una quadra e ripartire con più forze prima, perché è chiaro che abbiamo di fronte ancora un anno e mezzo e che dobbiamo affrontare con la massima serenità e convinzione. La rifondazione comunista ha intanto ieri tenuto un'assemblea che ha dettato la linea e posto alla maggioranza, come condizione per annodare la crisi, una verifica programmatica e l'accoglimento di alcuni punti per rifondazioni rinunciabili. Abbiamo stabilito all'unanimità, perché gli orientamenti all'interno sono contrastanti, di sottoporre al sindaco e alla maggioranza di centrosinistra nei prossimi tavoli che ci saranno in questa settimana e nella prossima settimana, una serie di punti programmatici per noi molto importanti. Punti principali? Punti principali, intanto la questione ambientale che è emersa sul Gran Sasso, ma emerge anche su altre questioni. Poi le questioni sociali dietro agli sfratti demorosi del progetto case, per i quali chiediamo un intervento straordinario sul sociale, e altre questioni sulla trasparenza e la partecipazione. Il malumore dei socialisti che sostengono con un piede fuori e uno dentro la maggioranza. E anche in questo caso si invita il sindaco Massimo Cialente a prendere in considerazione le loro proposte. In questo momento non ci sta bene la mancanza di coinvolgimento da parte del sindaco Cialente, e soprattutto su alcune delibere, come questa qui, delle utenze condominiali e dei progetti case, dei map, come il non rispetto dei programmi di mandato sul settore dello sport, oppure quello relativamente all'uso civico.